ciao a tutti sono alessio 19 870 altro gameplay di residentivo revelations via nella parte precedente ho completato l'episodio 3 adesso sto facendo l'episodio 4 il ritorno di un incubo via con l'episodio reattiva la corrente qui andiamoci da questo questa sala di comunicazioni parte precede a parte di questo video su ti è visto che rosso mica messa la vasca dei pesci dai pesci di niente con piragna sono mamma mia che dico raymond che ci fa che ci fa che ci fa cos'è? chiave acqua di ferro la chiave vi farà accendere al casino al primo piano lì c'è l'ascensore che vi porterà nella sentina prima ditemi se per caso avete visto altri membri dell'afbc a voi? no ho perso i contatti con la cella mia paranda dannazione e chi è? ho sentita da quando è scesa nella sentina ma cosa no non mi vuoi dire che quella quella che aveva le tette di fuori? no non ci credo vediamo cosa dice ancora ve l'ho detto l'entrata del casino nel salone al primo piano ok raymond sta appeso al palo nel muro che cazzo è? quella è la sentina della parte 1 cioè aizzo è il gioco qua non c'è niente non mi dire che quella quella che era quella che era ammazzata con i mostri dobbiamo cercare questa racione? eh prima dobbiamo riattivare l'alimentazione della macchina dici che la sentina non mi dire non ci credo ecco chi era la parte di raymond può credere chi ha detto che da censurare? no non si credono ecco chi era la parte di raymond può credere non ci crede ma c'è oh merda un'altra schifezza la sopra mettiamo qua munizioni, munizioni, munizioni non c'è un cazzo oh, qua sotto accessori di modifica ah, questo e torniamo là, nel salone nel casino, qua sotto c'è quella regge lì che era censurare ecco chi era ecco spiegato che è quella la parte di rengo qua lì, qua adesso mi sa di vedere, adesso sarà ancora morte andiamo a casinò andiamo lì qua ecco il casino ok è buio come è possibile uh, i pesci come nella parte precedente è filmato occhio al virus se entra qua dentro diventa di piranha un'erba verde vediamo qua sopra un po' è questa oh madonna è questa qua ma queste ah non è come Rachel che era censurare che tuttavia bisogna la corrente ecco l'acqua si muove casinò adesso si dottola la scena oh madonna ok sulle navi di rossa ci sono spesso lì casinò eh c'è già la corrente casinò e che ci vuole che è sta roba ah la sala personale ah la sala personale ah di piranha oh madonna e infatti il regalo che l'ha saputo con la maschera di piranha beccati di questo questi pesci schifosi che cazzo qua e dite ciò voglio vederci un po' di pace finalmente un po' di pace eh gira guarda c'è qualcosa si uh parche c'è la doppietta o tra pistola moneta moneta aspetta devo usare queste strutture scine un po' questa quindi posso procurarmi altre monete con queste vediamo vorrei una cosiga a casa vediamo no no una moneta no vaffanculo sdotto ma sci di merda questa come questa una moneta si 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 e sono ricco piri monete basta così ecco il virus piedes tutto rosso mamma mia allora devo fare con il gran mila che c'è scritto aspetta no no vaffanculo ma vaffanculo ma che cazzo no è ma vaffanculo oh ho azzeccato ecco quello è il peso così 107 così deve essere e queste qua avanzano uno ha azzeccato e vai ecco fatto cartucce documento diciamo che cazzo che cazzo non ho visto non ho visto cos'è? munizioni munizioni che sono pieno va? colpo a colpo no, scemo così niente altre schifezze, oh madonna ma che cazzo sono? andiamo avanti ecco l'ascensore speriamo funzioni ancora eh e andiamo eh manca la chiave oh oh e adesso? oh merda la chiave è scomparsa cercherò in giro do un'occhiata in giro vedo se riesco a trovarla contattami via radio se la trovi cerca la chiave di ascensore merda oh cosa vedo la terra accessori di modifica accessori di modifica no che cazzo ma che pari ancora questo enigma di merda che è una rottura di coglioni forse ci sono? sì ci ho fatta ci ho messo poco ecco perché non funziona nella parte 1 cioè all'inizio infatti ma Raymond non ha detto che la sua parna era nella sentita infatti allora la chiave c'è la presa o come si chiama? dobbiamo solo trovarla credo di sapere dov'è parli di quei cadavri di prima si già spero tanto di sbagliarli vero parche non l'aveva visto penso si è vero parche non l'aveva visto mi ricordo da parte 1 oh merda tanto stronzo di merda e di ciao arrivederci guarda che schifezza guarda che schifezza guarda che schifezza guarda che schifezza ma qua c'è merda merda e no e niente quindi devo andare da sotto oh merda 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 oh merda 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 ma troppi i coglioni e fecati questo e dicioio verci e due ma che schifezza ma che schifezza ma c'è e ma che c***o non c***o come c***o non c***o ma c***o ma c***o ma c***o ma c***o ma c***o oh merda ce ne rompi i coglioni di m***o c***o Amore preghi, togli ciò e vederci! Qui è dove ho trovato il manichino di Chris. Dove sarà il vero Chris? Non lo so. Qua c'è un documento. Già! ok dai c'è un accessorio di modifica di nuovo a sentire faccio la paletta verde niente oh merda non l'ho visto adesso dipende a fucilare forza è silento è silento oh e ti dice a rivederci oh e questo? cartucce fucile sono pieno ma che cazzo tutto stronzo di merda sto a rivederci ok ok fatto fuori no? è vuoto ottimo ottimo munizione pieno bomba a mano pieno qua accessori accessori paralisi paralisi gratio di fuoco 2 pieno 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 chiè cò non ci sono pistola e ma che cazzo che munizione ci sono? eh niente e ma che schifo ok, era da queste parti si, è azzerata qua a terra uniclipistola infatti era a terra e non c'è è scomparso uniclipistola uniclipistola eccola vediamo oh madonna ecco oh cazzo come si è ridotta tu Angela che succede? eh ho trovato l'obiettivo ma è uno zombie eh è la solita storia infatti c'è ma come si è trasformata no e come ho detto la parte 1 la censura è anche là eh dov'è? 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 oh merda merda no no via 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 ecco eccola guarda com'è ridotta ma cosa? e si ritira no mamma mia com'è ridotta ed è censo anche qua mamma mia dobbattere questa qua mamma mia è da censurare come ho detto la parte 1 è da censurare questa qua cioè la cerniello in giù tette lì fuori è la stessa cosa censurare devo batterla non ho l'altra scelta vieni vieni ecco qua l'ho battuta non avevo l'altra scelta ma come è ridotta mamma mia è una cosa pazzesca è da censurare guarda qua ma guarda qua è tette lì fuori da censurare cazzo prendiamo la chiave e l'ascensore allora era davvero recita eh si dicite la sentita mamma mia è una cosa pazzesca c'è l'orogio intatto non ci credo mamma mia è una cosa orribile una trasformazione orribile mamma mia ma cosa ma guarda questo mi fa distrarre ma le prendi e ti fa distrarre e ti dice ciao a vederci mamma mia il corretto pieno è una cosa orribile torniamo da Parker cosa ordine, ritorniamo indietro ok, di qua ecco, l'ascensore di là, ecco, eccolo Gilles, stai bene? sì ecco Parker cioè, come ha fatto assalire? che non ve l'ho detto niente no, l'ascensore che cosa? era la sua voce, non mi dire che è ancora niente Gilles è ancora viva, deve affrontare di nuovo pensi che la vetro abbia aggannato anche la FBC? non lo so, forse ne stanno soltanto usando chiunque gli capiti a tiro dal momento non interessa di più rimettere in funzione questa nave e rimettiamo in funzione ok, che capito? ok, sento la chiave ok e si scende filmato che cosa? boh carica la pistola ecco l'inverno capitolo e finisce l'episodio numero 4 il ritorno di un incubo risultati e poi lascio la canzone e poi andiamo avanti ecco l'episodio numero 5 e poi andiamo avanti ecco l'episodio numero 5 e poi andiamo avanti ecco l'episodio numero 5 Grazie a tutti. 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 E con l'aventro? Non saprei, non abbiamo trovato niente, l'indizio, nulla. Ora, c'è una stanza là sotto, prepariamo a fare irruzioni. Beh, sembra un lavoro adatto a noi, vero Grider? Ehi, aspetta, non abbiamo l'autorizzazione. Ehi, aspetta, non abbiamo l'autorizzazione. Tranquillo, facciamo noi, ok? Inoltre, se vuoi qualcuno che trovi soluzioni, nessuno è meglio del mio amico. Ecco, ecco. Ecco. Ehi, sono qui, grazie. Così, hai seguito Jessica a casa. Ora sei dove abita. Quasi. Le sono stato dietro fino alla fine. Ma l'ho persa vicino. Eh? Ehi, mi hai preso per uno stalker, non è vero? Io non l'ho detto. Baccia, andiamo. Che? E coglione. E si parte da dentro. Chi controllo? Ah, questo controllo. Tengo che qualcosa mi salti addosso. Guarda dove metti i piedi, dobbiamo fare piano. Eh? Sì, lo so. Ispezione Nascondiglio. Quindi controllo questo qua, non so se è Keto o Quinta, non lo so. Poi controllerò, prima di fare la prossima parte. Quindi, nella prossima parte farò l'episodio 5. Segreti svelati, con questo personaggio che non so chi è, o Keto o Quinta, non lo so. Prima di iniziare la prossima parte controllo chi è, e poi lo farò. Boh. Mi fermo qui. E quindi, vi dico, che finisce qui il gameplay di Resident Evil Revelations. Quindi un ciao da Alessio19870. Al prossimo gameplay. Al prossimo gameplay.